Non abbassare la guardia sul fenomeno delle fumarole in Terriblea, una piaga che persiste pur essendo ormai giunti al termine della stagione estiva. È stato questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto ieri a Palazzo di Governo a Ragusa tra il prefetto, Filippina Cocuzza, gli amministratori di alcuni comuni della provincia e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Presenti anche i responsabili delle associazioni di categoria col di rette e confagricoltura di Ragusa e i rappresentanti del Consorzio Terre Libere di Vittoria per fare un aggiornamento a seguito dei precedenti incontri sui vari aspetti connessi al fenomeno delle fumarole, nonché per individuare ulteriori iniziative per ridurre le criticità. Il prefetto, nel richiamare i vari impegni assunti in precedenza e le indicazioni scaturite nel corso della riunione del luglio scorso, ha ribadito la necessità di non abbassare la guardia e che le attività coordinate tra i vari enti e soggetti interessati proseguiranno in modo permanente, dal momento che il fenomeno dello smaltimento illegale dei risidui delle coltivazioni persiste e riguarda l'intero anno. Il monitoraggio degli interventi svolti ha fatto registrare un'eccessiva attività di controllo sia da parte delle forze di polizia provinciale, sia da parte delle forze municipali che hanno partecipato anche a controlli coordinati con le forze di polizia, si è rilevato che delle aziende controllate negli ultimi quattro mesi circa il 30% sono state sanzionate e denunciate, multe salate destinate ad aumentare al fine di debellare completamente il problema sul tutto il territorio provinciale. È stato ancora una volta evidenziato che le maggiori criticità continuano ad essere riconducibili ai residui vegetali a causa dell'eclipse delle fascette non biodegradabili. I rappresentanti delle forze di polizia e il comandante dei vigili del fuoco, ribadendo che l'attenzione rimane sempre alta sul piano del contrasto del fenomeno, hanno confermato la riduzione dello stesso negli ultimi anni grazie anche a un incessante lavoro di sensibilizzazione sul problema. Questo tramite quanto fatto da associazioni e consorsi come terribile, impegnate nel richiamare la massima attenzione su tali fenomeni altamente impattanti sull'ambiente.